Buongiorno a tutti quanti, siete rilassati durante le ferie? Janet sa che una delle cose peggiori per me sono i 3-4 giorni intorno a Ferragosto perché sono incattabile, voi sapete che io sono quello che si dice in inglese workaholic, delogato di lavoro, stare fermo per me è una morte e in quei 3 giorni non posso né lavorare nel negozio né lavorare a scuola per cui sono annoiato e cerco di intrattenere il tempo facendo cose praticamente brutte una delle cose che faccio normalmente quando non ho gli app è scaricare app sul cellulare così che il mio cellulare è pieno di app differenti, ogni tanto le cancello qualche d'uno perché sono troppi ci sono app che riguardano il tempo, le mappe, i terremoti, lo sport, Lazio 1900, Lazio Football Club, Lazio News, Lazio Style, Lazio Fashion Style si sono diposte della Lazio, 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 Lazio Sport, Lazio Sport, Lazio Sport e così via un'app che ho scaricato ultimamente si chiama Bible Lens ed è un'app che si scarica tramite la versione della Bibbia online e è un'app che è un'app che è linkato alla versione di Bible Lens avevo dimenticato di registrare, non ce l'ho conto, non è andato a cercare quello di qui questa app che cosa fa? poi fai una fotografia adesso proviamo a farla in pratica inquadrate una scena scattate una fotografia così ok, ho scattato la fotografia e lui cerca un versetto perfetto ho fatto una fotografia di voi di questa sezione e ho scattato poi Giovanni 1335 e John 335 potete cercare 1335 in italiano per favore? giocchi in semplice by this everyone will know that you are my disciples if you love one another da questo vedranno che voi siete discepoli se chiamate l'uno all'altro va bene? abbastanza concreto no? ok vediamo vediamo da quest'altra da quest'altra parte che cosa che cosa ci propone vediamo se questi sono più belli eh da questa parte ci propone Giacomo 1,5 James 1,5 se qualcuno di voi manca di stagione la chiede a Dio chiedono a tutti generosamente senza rinforciare e gli sarà dato amè per cui poi ci abbiamo i discepoli e poi ci abbiamo quelli che non siete discepoli so here we've got disciples and here we've got people who need more discepoli infatti questa app genera delle cose abbastanza originali mi dai a questo per esempio è quello che è uscito fuori mettendo la mia bella faccione a partita questa è la mia faccia a Ferragosto contattina e è uscito fuori a Baruch 2,14 poiché la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le altre coprono il fondo del mare e c'entrano la faccia saputa what's that gonna do with my face? ma sapete come? ancient prophet profet antico assomigliano a Babcook evidentemente I obviously look like Halcook sapete di tutto questo di questa app che è una piccola scenezza spesso di niente mi ha fatto riflettere su come noi utilizziamo la Croazio perché sapete in questa app ad esempio qui la mia figura è insieme con il pezzetto c'è la possibilità di scegliere se mettere il pezzetto mi dai la prossima se mettere il pezzetto intorno al pezzetto qui c'è il Salmo 121,8 il Signore ti proteggerà quando esci quando entri ora e sempre che è una cosa carina quando entra con una famiglia con un serpio di famiglia con un serpio di famiglia è abbastanza appropriato oppure possiamo decidere di metterla dentro l'immagine perché aspettavamo una città che ha le vere fondamenta in cui l'architetto costruttore è Dio libero mi ha fatto riflettere nella nostra vita nella fotografia di ogni giorno della nostra vita dove mettiamo il pezzetto lo mettiamo intorno alla fotografia o lo mettiamo dentro la foto perché sapete noi spesso tendiamo a mettere tutto quanto insieme intorno a quello che facciamo facciamo un po' di questo e un po' di quello facciamo un po' di famiglia un po' di lavoro un po' di amici e un po' di amici quindi un po' di amici e un po' di amici e mettiamo tutto quanto intorno oppure possiamo anche decidere di mettere tutto quanto in l'immagine allora facciamo tanto lavoro qui è dentro l'immagine l'immagine e facciamo tanto sport o facciamo tanta famiglia stiamo tanto con la nostra famiglia e anche facciamo tanta vita di chiesa, tanta preghiera e la mettiamo dentro la nostra vita dov'è che mettiamo la parola del signore? intorno o dentro insieme a tutto il resto? non voglio fare un messaggio molto lungo perché l'orario è tardi e dobbiamo dare il prossimo quello che sto facendo io da un po' di tempo a questa parte è alzarmi la mattina come faccio tutte le mattine il mio tempo di meditazione è la mattina chiedere al signore che mi mandi un pezzetto può essere tramite i vari email che mi arrivano da amici con un pezzetto del giorno oppure semplicemente cominciamo a leggere un brano della parola e a un certo punto qualche cosa colpisce la mia attenzione e allora dico quello il signor è il pezzetto che il signore mi ha dato oggi sapete cercare di applicare tutta la bibbia tutti i giorni tutta quanta intera è abbastanza pubblica praticamente è così per cui quello che faccio è prendere quel versetto che mi ha dato il signore e cerco di applicare quel versetto a quello che sta alla mia giornata per esempio qualche giorno fa il signore mi ha dato questo versetto for example a few days ago I got this verse Efesimi 5 dal versetto 1 al versetto 2 siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche degli sogni amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo sua come cambia la mia giornata se provo ad applicare questo all'interno sopra l'immagine della mia giornata se non la metto intorno alla mia ai fotografi di Dio oppure non la metto dentro pensiamo di tutte le altre cose ma la metto come leitmotif come motivo dominante della mia giornata in quel giorno io ho cercato di essere un migratore di Dio come figlio amato e ho cercato di camminare nell'amore di Dio sapendo che Cristo mi ha dato al di là dei miei difetti al di là delle mie mancanze al di là delle offense che io ho fatto personalmente a Dio la mia giornata è cambiata praticamente era una giornata abbastanza voluta e pesante al negozio ma anche perché ero da solo era una di quei giorni dove avresti voluto chiudere il negozio perché c'era un problema dietro l'altro chi mi conosce davvero sa che ho un temperamento abbastanza famoso sembro così tranquillo e calmo come il pastore ma non lo so se volete essere sicuri chiedete a mia moglie e normalmente quando sono veramente stressata al negozio mi capita purtroppo di essere abbastanza rude con quelli che sono rude verso di me e se tu sei rude verso di me e che io sia rude verso di te ci potrebbe stare ma se tu la mattina ti sei alzato e hai detto che il leitmotif il motivo dominante della tua giornata è il persetto che ti è stato dato dove c'è scritto che io devo camminare nell'amore come Cristo mi ha amato nonostante le mancanze cambiare l'ambiente direi alla prossima il pensetto successivo il giorno successivo chiaramente è andato continuato a leggere e il pensetto che il Signore ha messo nel cuore era proprio quello successivo e era il pensetto 5 5 e 3 come si addice ai santi né fornicazione né alcuna impunità né avarizia sia neppure nominata da voi né oscenità né parole sciocche o polgari che sono cose sconvenienti ma piuttosto abbondi il ringraziamento ma tra voi non c'è nessun hint di sessual immorality o di nessun tipo di impurità o di grigio perché queste sono improprie per gli altri non c'è nessun obiettivo o di chiunque o di chiunque o di chiunque che sia in un posto ma di più grazie chiaramente sul mio iphone ci sta un'app che si chiama whatsapp e quelli che hanno whatsapp e sono collegati a più chat sanno che spesso le chat del mondo sono per così dire non propriamente per bambini non mi fate andare nei particolari capiteli escono non soltanto però le manche immagini che hanno a che fare con le prime almeno due motivi che dice Paolo leggeteli capite di cosa sono parlato se tu la mattina hai deciso di mettere nell'immagine della tua giornata che non ci sarà fornicazione e impurità che non deve essere neppure nominata figuriamoci praticata con vista capite che il mio atteggiamento sarà praticamente differente se io sto in una conversazione frivola sulla chat cambierà molto la mia maniera di scrivere se io mi sono impegnato in quella giornata a non pronunciare parole sciocche e cambierà ancora di più se io mi sono impegnato in quella giornata a far abbondare il ringraziamento sulle mie e sulle mie e cambierà in quella giornata io sono stato una persona che ha ringraziato e il giorno dopo che cosa ho fatto ho letto un altro pezzetto e quello me lo sono dimenticato la Bibbia è come la scuola se tu studi una cosa il giorno prima per dare senso a quello che hai studiato il giorno dopo devi ricordarti del giorno prima applicando un principio al giorno a 365 giorni in un anno tu sarai un pochino più grande e un pochino più affamso la Bibbia in conclusione quale app vuoi scaricare sul tuo cellulare sul cellulare della tua vita quale app vuoi utilizzare nella tua vita quella che mette intorno alla fotografia della tua giornata la parola di Dio quella che mette la parola di Dio dentro la fotografia ma mischiata con tutto il resto oppure quella dove la parola di Dio è il motivo principale della tua giornata se tu scegli questo ultimo ti servirà aiuto perché tu vai in un mondo dove le app l'app che conosce il mondo è quella di mettere tutto quanto tutto insieme chiedi allo Spirito Santo di aiutarti è lui che farà in modo che se tu prendi la decisione di mettere il leitmotif il motivo principale la parola di Dio ti aiuterà e vedrai che piano piano ogni giorno ti ricorderai anche i versetti del giorno precedente sarà lui a riportare e nella maniera tu sarai un pochino più a misura di Cristo vediamoci a pregare signore ti vogliamo ringraziare della tua parola la tua parola ci ammonisce ci ammaestra ci conforta se tu che mi hai espontato sei stato colpito sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi prega assieme a me queste parole prega signore io voglio mettere al centro la tua parola nella mia vita io voglio mettere un arco dove la tua parola sia il leitmotif il motivo principale della mia giornata con questo mi impegno a leggere quotidianamente la tua parola e applicarla alla mia giornata e signore so che non sarò solo in questo processo ma ci sarà lo Spirito Santo a fianco per cui Spirito io ti prego scendi nel tuo rile aiutami ammaestrami insegnami e guidami tutto questo te lo prego di usare grazie 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 a tutti grazie a tutti